La Cina La Cina La Cina Quando ci si innamora sul serio si supera qualunque ostacolo Lei non fa altro che dirmi che andrà tutto bene, ma fa male, molto male Ha ricevuto un invito di Dodi Al-Fayed Credi sia un bene partire per questo viaggio? Non ci vai perché ti senti sola, vero? Stavo tentando di trovare un modo per poter stare insieme Diada!